Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questo serpente da ammazzare qui alla Villa Vulcano quindi dirigetevi qui in questo posto, qui dove mi sembra che qua c'era il ciccione, quello del Sacri Derma da ammazzare poi sempre qui prendendo la piattaforma, proseguendo da questa parte, basta seguire questo passaggio capirete subito subito dove sta la strada, dove ci porterà ad ammazzare il serpente ma lì ci starà aspettando solamente il serpente, ma anche una spada, quella è una spada tipo ammazzaserpenti distruttore di serpenti, vi devo dire che quella spada è una bestia, l'ho distrutto quel serpente l'ho fatto fuori senza un graffio, non mi sono fatto niente, vabbè ho usato anche la mia copia per distrarlo però io ho continuato a fargli danno eh, quindi proseguite da questa parte la lava non mi fa niente, mi fa solamente il solletico questi stanno ancora in giro, ammazzare bastardo aprite la porta delicatamente, non fateci caso a questo, tanto voi siete degli dei, mortali quindi per voi questo è solamente una razza inferiore ok ok Bello. Volevo solamente divertirmi, quindi ho tagliato la parte, questo è il portale, prendete questo portale, raggiungete la destinazione perché andremo a divertirci e alla vostra sinistra c'è le strutture di serpenti. Io la chiamo di strutture di serpenti, meglio. E questa è la sua abilità, 1759 di danno, subito subito, attenzione anche al veleno. Perfetto. Questa è la prima parte, ora arriva la seconda parte, il tizio che estrae una spada dalla bocca del serpente, una spada che io ho perché l'ho riscattata dopo la dimembranza. Adesso si alza, c'è una faccia dietro al serpente, oddio. E che cominci lo spettacolo di nuovo, solo che questa volta questo non si sta un po' fermo. Ecco, quella è la spada che c'ho io. Ah, questa volta gli ho fatto 3200. Madonna, solo noi 8000. Allora, solo noi 8000. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare like, iscrivetevi al canale e mi raccomando io adesso vado un attimo a riscattare questo bel premio lì alla tavola rotonda. Quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Edelring. Ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.